Musica Salve a tutti stramo e benvenuti in questo nuovo video Io sono sempre su question e oggi siamo nel videino che riguarda Halloween Infatti oggi è il 31, è appunto Halloween Mi trovo già da cura anche se questa mattina sono andata da mia mamma E niente, sto preparando alcune cosine perché quest'anno andremo a fare una festa da amici Io sinceramente non so bene cosa aspettarmi perché è stato tutto molto vago Sta di fatto che ognuno porta qualcosina e io sto portando il vomito di fantasmino con i nagio E una torta salata, la Domers Cake, cioè l'avete vista anche l'anno scorso e l'anno ancora prima Bellissima, un must ma ora vi faccio vedere mentre preparo Anche delle pizzettine, pizzettine tipo mostro Ho fatto la salsa, ve la faccio vedere Prima di continuare ovviamente vi ricordo di seguirmi su Instagram Se volete supportare questo canale potete farlo dando un'occhiata a Link Coffee, Fiverr e Vinted Come potete vedere ho il pollicione nero ma perché ho usato i coloranti per colorarla Volevo provare a mettere il colorante nero ma è finito sul mio dito e quindi ho detto Il vomito è questo di qua, come potete vedere, spero che si veda in realtà È una pappetta verde, cioè si si vede, è una pappetta verde Vi rinnovo la ricetta anche se ve l'ho messa anche l'anno scorso Che è tonno, pomodoro, spalmabile tipo Philadelphia e maionese Molto easy, mischiare e poi si dippa nei nocius E ovviamente il colorante, cioè non è verde naturale Se no la maionese non era da mangiare Vado a preparare l'occorrente per la torta salata e vi faccio vedere le cose man mano che faccio Allora rosoliamo lo speck perché appunto la torta salata sarà composta un po' come quella Che vi ho fatto vedere nell'ultimo video Quindi dove c'è la zucca e qua c'è appunto la purea di zucca E poi speck scamorza Lo speck però lo metterò in metà perché in metà userò invece l'affettato del Lidl Perché a me lo speck non piace Sì sarà fatta una decorazione particolare E ovviamente tutta la pasta sfoglia sarà tipo quella comprata del supermercato È nulla di complicato Ora rosolo e poi vi faccio vedere la composizione E mettiamo la zucca Abbondiamo, abbondiamo Io sto cercando soltanto di non prendere la parte troppo acquosa Perché se no verrebbe un po' Cioè rischia che si ammolla la pasta sfoglia E noi questo non lo vogliamo C'è uno strato tutto sommato sottile Perché appunto in mezzo dobbiamo metterci il fromaggio e gli affettati salumi Come non detto ho messo la scamorza E poi ho messo da un lato lo speck E dall'altro lato volevo mettere l'affettato di Lidl Che ho scoperto di non avere Cioè io pensavo di averlo sul gelato e invece niente Quindi ho ripiegato su dei pomodorini secchi saltati Ora ricopro di zucca e avverrà la magia Ah magia è diventato bruttissimo Fantastico, bellissimo Ora lo spennello un po' con del burro, dell'olio E poi lo cuocio È fantastico Forse metto un altro poco di ketchup tipo nella bocca Ne serve poco ovviamente Bellissimo Io adoro tantissimo Mi piace tantissimo farla ormai tutti gli anni Vi prego guardate come è bello Ora magari metto un altro pochino di ketchup Ma si è gonfiata un sacco Cioè io non mi aspettavo Infatti non mi aspettavo che i bordi tipo si rialzassero Cioè non ho mai fatto una cosa del genere O che si gonfiassero così le guance Di solito rimane tutto Oh scusa, scusa Ti ho scoppiato l'herpes Comunque di solito rimane abbastanza Mentre si è gonfiato molto Ma è bellissimo Io adoro Ora si deve raffreddare completamente Per quanto sia ovviamente buono mangiarla calda Ma vista che la dobbiamo trasportare Una cosa che abbiamo notato È che questo tipo di torta salata Se è trasportato calda Si tende ad ammollare Cioè tutta l'umidità Ammolla tutte cose Quindi è meglio portarla fredda E mangiarla fredda Al massimo riscaldarla sul momento Piuttosto che Se no Perché si rovina Povero nostro amico Entro ho iniziato a fare le pizzette Però Dovrò fare una sorta di Un quarto di cottura Perché la decorazione con la mozzarella Vorrei farla all'ultima Quindi Ora vi aggiorno Mi sono toccata Mi sono preparata Ora stiamo finendo di ultimare le ultime cose Facciamo la borsa E poi andiamo dagli amici Sta procedendo Fra poco usciamo Io mi sono messa qui Ora mi sto facendo due fottine E ora conservo le cose da mangiare Così siamo pronti per andare Pronte cosine Mentre attendiamo gli altri Ciao gatto C'è un bellissimo gatto qui Faccio catcalling Ciao gatto Cos'è a caso? Non c'è un caso A me è Halloween Tesso un sacco Infatti di solito Nelle altre feste Che faccio Comunque La situazione è questa Per ora Halloween Oh 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 Dolcetti Momento dei dolci E dalla costume via Vediamo scappare In light Una Una Come si chiama Una Una ragazzella Lavorava lì Comandante Allora noi Stai reparti Quello che era successo Chiediamo Che è successo Che è successo Non lo so Non lo so Dopo Dopo due giorni Noi avevamo capito Che c'era qualcosa Che non andava Perché nessuno Ce lo parla a dire Però si vedeva Che lo sapevano Siamo riusciti a farcelo dire In pratica Questa ragazza Ha visto Un pelo Che la usano Per Un pelo di scena Un pelo che si alzava In maniera Ovviamente Sovranaturale Perché non era Un pelo che cadeva Un pelo che si alzava Andava verso di lei E cadeva E aveva visto pure Come l'ombra di una mano Qualcosa di strano Che non ci riusciva a spiegare Quindi Era scappata via Che è il gioco Va bene Allora noi abbiamo iniziato A raccontare questa storia E ogni anno Qualcuno Ci diceva Io non ho mai capitato qualcosa Non ho mai capitato qualcosa altro Una volta ci hanno raccontato Che Una coppia di coniugi Erano Noi di appartamento Al secondo giorno In pratica Succedeva che La Il marito Veniva Preso al mito Mentre dormiva Iniziava a ricevere Dalla moglie No Detto così Iniziava a essere preso al legno Ah Come se ci fosse Una presenza che lo prende Sto all'interno E dormiva Dalla moglie E' di notte e notte E' di notte Avevano chiesto Di andarsene Perché dicevano Dove è successo questa cosa Adesso Andiamo Un'altra volta Abbiamo incontrato I signori Che facevano la sicurezza Che erano due Due signori Tipo Sulla tessantina Belli pacchiononi Diciamo Impostati Non erano Dei mingherini Ci hanno raccontato Che pure loro È successa una cosa Che non si sono mai Vole di spiegare A quanto pare Stavano andando L'arca lampisio In pratica Si nota Dentro Diciamo Il sottoposco Insomma Ci sono delle zone Che sono molto Distanti Dal centro Del Del Vindaggio E in una di queste zone Tutto assieme A che camminavano A che loro Hanno iniziato a ricevere Colpi In faccia Nel colpo Nelle canze E' stato Alla sangue Da nessuno Perché loro hanno detto Se tu mi dici Che è stato Io non lo so Perché io non vedevo Perché non vedevo Nessuno attorno a me Intanto mi arrivavano Molti E questa è stata Un'altra cosa Che ci ha lasciato Un po' Mi ha referenziato A Pampa In che te lo dice Una persona Sai conosco Ma se tu non c'è La persona stessa Che tu lo vedi Bianco in faccia Ha spaventato Della cosa Già Questa cosa Un po' Ti spaventa Un po' Di più Abbiamo fatto Un'altra ricerca Abbiamo scoperto Che il Direttore storico Del villaggio E' molto suicida Nel villaggio Una volta Una signora Ci ha raccontato Che stava scendendo Per andare al mare E' un signore Distinto L'ha superata Vestito Con un giacchia e cravatta Tant'è che lei Si è stranizzata Perché c'erano 2000 gradi Dice Questo non è fasta Con la giacchia e cravatta Sì E' un po' L'altro Solamente Che appena il signore L'ha superata L'ha girato l'angolo Per scendere A mare E lei ha fatto La stessa cosa Dietro l'amolo Il signore Non c'era più E non poteva essersi Nascosto Perché da un lato C'è la scogliera Dall'altro lato C'è il mare Quindi E' completamente Sparito Questa persona Si è spaventata Tant'è tanto Che è scappata Di corsa E' tornata Al marito E gli fa Che il marito Ovviamente Si è L'architetto Che ha disegnato Gran parte Del villaggio E' detto Ma io ho visto Questa persona Così dice Di scrivere Ma era così Con i baffetti Vestito così Dice Questa è L'ex diventore Quello che si è Sì Sentito solo Dadi Non ho capito Tu hai questa maledizione In mano Che ha bisogno Di un pipistello Un testo Tirando Io ho fatto Questi dati Di tipi C'è qualcuno Grazie Uno Due Devo prendermi Un'azione permanente E poi Qualcuno Deve Tornare indietro Sì Pensavo Vero che fosse Caro E quindi Faccio Ma mi state Facendo uno scherzo Con cercare La distanza Perché ho I capelli Uguali Sennò Non c'era nessuno Quindi Sono un po' Riccoli Finito Però Allora È tardissimo Siamo appena tornati Sono tipo Le due di notte Ci sentiamo Per buttare Così A letto Alla fine Abbiamo passato La serata A giocare A raccontarci Storie di paura È stato tutto Molto carino Forse è un po' Caotico Da il video Non si percepisce Però è stato Molto divertente Quindi se il video Vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate Condividete E iscrivete Al canale Ciao a tutti Peace